Empire of the Sun con Walking on a Dream, siamo arrivati alle 3 e 8 minuti e a questo punto siamo nella seconda parte di questa notte sicura con Massimo Chiedroni alla parte tecnica Alessandro De Gerardis che vi parla e vi parlerà ancora per circa 2 ore e 20 quando terminerà la notte sicura come sempre alle 5 e 30 vediamo qualche aggiornamento terminate le code per l'incidente che erano segnalate tra Dalmine e Seriate sulla 4 abbiamo però dei rallentamenti tra Bergamo e Seriate per lavori e siamo in direzione di Vrescia sulla 26 incidente ancora segnalato ma senza coda e tra Borgomanero e la dinamazione a 8 Milano Varisse in direzione di Gravellona-Toce poi abbiamo l'incidente in A1 tra Fabro e Orvieto verso Roma anche in questo caso non ci sono le percussioni sulla viabilità siamo al chilometro 432 e occhio per la presenza di nebbia in banchi sulla 25 Torano-Pescara tra Manopello e il Bibio con la 14 abbiamo una visibilità di 70 metri la notte continua con notizie e soprattutto con la nostra musica